In questo video faccio sfidare, mettiamolo tra virgolette, sfidare tre grafici umani, tre persone, mettiamola così, e tre AI per la creazione di un logo. Le tre AI sono Ideogram, Midjourney e HGPT, quindi da lì, mentre i tre grafici li ho selezionati su Fiverr, che è la piattaforma, una delle piattaforme più importanti per trovare freelance che fanno vari lavori, non solo di grafica, ovviamente. Tra l'altro questo è un video in collaborazione con Fiverr, quindi tra un po' vi dico anche che promo c'è per voi. Cosa facciamo quindi adesso? Io ho già creato tre loghi su Fiverr, scegliendo tre persone, tre freelance, tre grafici con diverse caratteristiche, tra un po' vediamo il risultato finale, e proviamo a fare la stessa cosa anche utilizzando le tre AI che ho menzionato, quindi diciamo HGPT con l'utilizzo di Dali all'interno, poi Ideogram e poi Midjourney. Allora, parto subito con HGPT per un motivo molto semplice, perché HGPT delle tre è l'unica con la quale possiamo dialogare, no? Nel senso che da lì è integrato dentro la chat e quindi posso spiegargli, dargli un po' di contesto, no? Arrivare alla, diciamo, alla soluzione, al logo un po' alla volta. Questo è, il prompt che metto qua sono i requisiti, è proprio la stessa identica frase che ho dato alle tre persone che ho pagato su Fiverr per far fare il logo. Quindi più che un prompt, questo è proprio il messaggio che gli ho mandato, no? Perché Fiverr vi fa scrivere i requisiti. Quindi ho bisogno di un logo per la mia Academy, è una scuola online dedicata all'intelligenza artificiale, perché ovviamente, visto che dovevo fare questa cosa, l'ho fatta su una cosa reale, no? E quindi ho detto, beh, a questo punto mi faccio fare un logo e poi il logo lo utilizzo veramente. Il nome è IA360, per chi non la conoscesse, IA360.Academy, andate a dare un'occhiata, dove IA360 indica il fatto che copriamo l'intelligenza artificiale, l'argomento dell'intelligenza artificiale, la sua interezza non solo sugli aspetti tecnici, ma anche su quelli umani. Perché in IA360 portiamo filosofi, psicologi, sociologi, quindi si parla di AI, diciamo, a tutti i livelli. La scuola è frequentata da imprenditori, freelance, manager e anche, diciamo, semplici entusiasti. Vorrei un logo minimalista che riesce a esprimere il concetto di learning, quindi diciamo di apprendimento, di futuro, e della visione dualistica dell'intelligenza artificiale, quindi la tecnologia più l'essere umano. Io parto così con un prompt semplice, poi magari lo elaboriamo man mano che andiamo avanti, vediamo, cioè, GPT cosa ci crea. Gli do questo primo prompt, vediamo qual è il logo che crea, cioè, GPT, e poi dopo proviamo a vedere, invece magari ci facciamo anche aiutare a scrivere i prompt che useremo dentro Ideogram e dentro Midjourney. Allora, adesso sta lavorando, no? Ci sta facendo il nostro bel logo. Vediamo il primo risultato qual è. Allora, carina l'idea di mettere, lo zoom un pochino, carino l'idea di mettere, diciamo, il volto e i chip, mettiamola così, no? Quindi far vedere i circuiti, quindi far vedere, diciamo, la parte più elettronica, la parte più umana. La scritta è sbagliata, perché non è IA360 e A360, ma questo possiamo provare a farglielo rifare. E magari in Ideogram questa cosa ci verrà meglio, perché Ideogram il testo lo lavora bene. Invece di Online Academy, è scritta Online Academy, questa l'ha toppato. Poi ci sono questa sporcizia qua, questa roba qui che è un po', diciamo, inutile, questa cosa qua sopra, che non so che cos'è. Vediamo, tra l'altro, il prompt che ci ha fatto, perché se noi clicchiamo qua sopra sapete, no? Che si può vedere il prompt che poi ha usato effettivamente C.A.G.P.T. Quindi il logo minimalista per un Academy che si chiama IA360, bla bla bla, l'idea di 360, usa linee semplici, pulite, eccetera, eccetera. Il logo ha una forma circolare, elementi astratti, circuiti, un tocco umano e così via. Ok, proviamo a fargli fare una prima cosa semplice e gli diciamo The text is wrong, try again with IA360. Quindi diciamo, prova di nuovo con IA360, quindi provo solo a fargli sistemare il testo, anche se con C.A.G.P.T. è praticamente impossibile avere un testo, diciamo, di qualità. Se avete usato Ideogram, no? O altri che comunque sul testo sono forti, pure Flux, per esempio, sul testo se la cava bene. Oh, qua l'ha beccato! Mi ha zittito subito, mi ha zittito subito. Allora, ovviamente qua poi c'è il problema della coerenza, no? Ogni volta che ne generiamo uno, perdiamo quello che abbiamo fatto prima. Quindi è rimasta l'idea generale del metà volto, metà, diciamo, circuiti elettronici. Però l'ha cambiato e mi piaceva più quello di prima, che era un po' più minimalista. Ha beccato IA360, ci ha messo pure questo trademark qui sopra. C'è sempre questa monnezza intorno che mette, diciamo, che poi andrebbe un pochino tolta, no? Cioè, questo logo andrebbe pulito. Per esempio, questa scritta qua sotto la toglierei. Artificial Intelligence l'ha scritto bene, ma è tutto sporco. Online Academy l'ha sbagliato. Diciamo, questa parte qua sarebbe da ripulire. Voglio però fare una cosa. Faccio semplicemente una... Voglio però dirgli di non mettermi altre scritte, ma scrivere solo Try again with the... Ops. With the text IA360 And don't write anything Anything else. Vediamo se questa cosa se la piglia, così magari non mi mette 360, non mi mette TM, IA30 qua sopra, questa roba qua sotto, eccetera eccetera. Cioè ci sarebbe un lavoro poi di pulizia da fare, mettiamola così. Niente qua è andata proprio fuori strada, l'abbiamo perso. C'è effetti sulle immagini. Io non lo consiglio mai. Ha fatto passi da gigante, no? Rispetto al da lì precedente, alla versione 2, questa è da lì 3. Però, diciamo, c'è altra roba sul mercato che funziona decisamente meglio. L'altra ha fatto pure sta cosa che ha cambiato. Adesso la I è blu, la A è nera. Qua era più carino perché mi piaceva sta cosa di avere IA di un colore, 360 di un altro, eccetera eccetera, direi che non ci siamo. Facciamo così adesso. Provo a prendere, di questo qua mi provo a prendere il prompt e lo mettiamo direttamente dentro i ideogram. Vediamo se, mettiamolo così ovviamente, il prompt sarebbe da sistemare un pochino, però faccio prima una prova così. Allora, in ideogram tra l'altro abbiamo varie modalità, quindi voglio provare con auto, voglio provare con design e voglio provare con 3D, no? E vedere cosa ci esce con queste tre modalità. Però poi dopo, invece di dargli questo, che non sembra tanto un prompt, sembra più una descrizione astratta, voglio provare a farmi scrivere un prompt da CRGPT, quindi facciamo pure quest'altra prova. Mettiamolo quadrato, che mi interessa di più quadrato. Vediamo con auto cosa ci crea. Ovviamente, diciamo, ideogram ci dà quattro proposte, a differenza di CRGPT che fa sempre sta cosa di una immagine per volta che io non la sopporto. Cioè, ormai tutti quanti fanno quattro proposte, non so che CRGPT è rimasto l'unico che fa un'immagine per volta. Allora, vediamo un pochino cosa ci sta creando. È quasi pronta il finale. Allora, già c'è una differenza abissale, cioè la differenza è abissale, l'avete visto già come ha interpretato lo stesso testo. Ovviamente qua ha fatto... Vabbè, sul testo nemmeno un errore. Fatemelo rileggere, perché io a volte dico, oh, nemmeno un errore, poi qualcuno dice, qua sotto come Raffo ci sta duelle. E io sono ciecato, non l'ho vista. Allora, IA360, qua ha fatto il cervello al posto dello zero, molto carina come idea. Online Academy, Artificial Intelligence. Ha messo troppa roba, diciamo, nel logo. A me questa roba non servirebbe, magari potrebbe essere questo pezzo qua, mettiamola così. Ovviamente è una limitazione grossa poi di questi strumenti, di quelli che uso io, perché magari poi ce ne sono altri che lo fanno meglio questa roba qua, e che poi questo mi servirebbe trasformarlo in vettoriale, no? Per poterci fare dei lavori. Magari sì, pure con la JPEG me la cavo, la posso mettere sul sito, no? Già una PNG trasparente sarebbe meglio, però diciamo, poi per lavorarci bene servirebbe il vettoriale, se uno deve fare dei lavori, diciamo, un po' più seri, un po' più professionali. Queste linee qua, diciamo, dei circuiti, è un po' a capocchia, devo dire la verità, quindi non è che sia granché questo lavoro. Vediamo la seconda cosa ha fatto. Questo è molto più carino, mi piace anche il gioco di fare, diciamo, i due font qua sotto. Ovviamente ci vedo veramente poco di minimal, anzi lo vedo molto complesso, ci sono delle sfumature, qua c'è un effetto 3D, magari lo volevo un po' più flat, un po' più pulito. Questa forse è la migliore, vi devo dire la verità, questa forse è la migliore delle tre. Continuo a mettere questo test qua sotto artificial intelligence, fatemi vedere, ma è scritto qua dentro da qualche parte. No. Vabbè, qua c'è Futuristic Blue o Metallics, perché ovviamente ce l'abbiamo copiato da CGPT, però questo qua forse è il migliore fino ad adesso. Qua c'è anche il volto umano con il chip, questa è la combinazione fatta meglio. Questo no, non mi piace, è orribile, questo qua veramente non mi piace, questa cosa non c'è zecca niente proprio. C'è anche questo secondo me è il migliore fatto, appunto si dovrebbe fare quel lavoro di poi prenderlo, portarlo esternamente in qualche modo, tirarci fuori un vettoriale da questa cosa, o usando un'altra AI, oppure lavorandoci con Illustrator, diciamo con un software di altro tipo, che non saprei fare ovviamente io, non ho queste competenze. Tra l'altro tutte le persone amici e amiche, diciamo che sono graphic designer, e di questa roba quindi ne capiscono, commentate pure voi qua sotto quale vi sta piacendo di più, quale potrebbe avere più senso, e così via. Torno qua, adesso voglio farlo con Design, e poi lo proviamo pure con 3D, quindi non tocco nient'altro, Magic Prompt on, formato quadrato, versione 2.0, senza una palette, oppure c'è una palette che mi può piacere, forse è una palette, no, no, vai, non ce la voglio mettere, non gli voglio dare proprio nessuna palette, facciamolo semplicemente rigenerare, quindi torno qua, torniamo in, qua se sono le creazioni, vediamo cosa ci crea, nel frattempo vi ricordo che questo è il momento nel quale potete fare like, e commento tattico a questo video, no, mettete un bel like, un commento a voi non costa niente, è un modo per spingere il video, per dire all'algoritmo di YouTube che questa cosa è carina, è figa, ed è interessante da vedere, il commento soprattutto è molto amato dagli algoritmi, allora vediamo, cambiando questa impostazione cosa cambia, no, questo, questo non mi piace, non mi piace per niente, è strana questa I col puntino sopra, questa cosa qua dentro, non capisco cos'è, questi chip, questo circuito col volto è diventato quasi solo circuito, diciamo, meglio quello di prima, idem questa qua, cioè, in un senso questa parte qua poteva andare, questa roba qua sopra, non la capisco proprio, questa roba qua è strana, cioè se quello poi dovrebbe diventare tipo il, diciamo il, magari se non voglio tutto, no, la scritta completa, e volessi utilizzare solo questo pezzettino qua, questo è strano, non mi dà nessuna idea, no raga, pure questo, diciamo che quello di prima secondo me è il migliore, questo non male, questo non male, questo non male, si avvicina a uno di quello dei grafici, non vi spoilerò niente, ma si avvicina a uno di quello dei grafici, questo qua veramente niente male, gli altri tre non mi piacciono per niente, qua è un po' brutto il fatto che i A360 sembra quasi messo con un, con un bannerozzo attaccato sopra, no, con lo scotch e si tagliano i circuiti, i circuiti sotto, questo è un cervello suppongo con una trasformazione però a mo' di circuito, faccio un'altra prova dove gli faccio fare 3D, ovviamente ho detto che voglio un logo minimalista, quindi adesso dal 3D non mi aspetto che escano delle cose, diciamo, interessanti perché va un po' in contrasto con quello che ho proposto io, però vediamo cosa ci tira fuori facendo quello 3D, e poi dopo proviamo anche con MidJourney, se non l'avete messo, visto che sta caricando e non l'ho tagliato questa parte, like e commento, mi raccomando il commento tattico è fondamentale, ve lo dico, magari vi dimenticate, poi magari qualcuno di voi se lo ricordi, ci raffa non me lo devi ricordare, eh vedete col 3D ovviamente andate a fare sto lavoro di trasformarlo in 3D, perché questo per esempio non è malvagio, anche se qua c'è un po' di, diciamo di tzutzimma, che andrà in qualche modo a ripulire, c'è sempre scritto Artificial Intelligence, che non capisco perché la metto, no questo è inguardabile, questo non mi piace per niente, questo potrebbe essere carino, ovviamente nella sua versione flat, perché qua questa versione 3D la vedo estremamente completa, però la sua versione flat di questo potrebbe essere carino, questo adesso lo, diciamo me lo copio, e dopo lo rifacciamo, però senza 3D render, e questa qua no, questa no, questa è inguardabile proprio, voglio fare questa prova, prima di andare a, tolgo qua, faccio a minimalist logo, the logo in tesa circular shape, inscribed within, inside the circle, this is a silza, the brain of the circle, the connectable line, the overlock is a blue line, with text, the background is white, ok togliamo 3D, e facciamo auto, invece di fare design, vediamo così cosa, cosa ci crea, come vedete no sto proprio provando insieme a voi, non me li sono fatti prima, appunto per farlo molto genuino, diciamo molto, realistico come caso, cioè se una cosa non mi convince, la cambia un po', vado a modificare il prompt, che poi è quello che vi dico, che bisogna sempre fare, quando usiamo queste AI, iterare continuamente sul prompt, prima di arrivare, alla soluzione, alla soluzione finale, vediamo cosa ci ha fatto, quella versione là, non era malvagia, no è andata proprio in un'altra strada, è andata proprio in un'altra strada, questa non mi piace, questa cosa, no no, proprio, qua no, qua ha spezzato 3,60, vabbè ovviamente potremmo dire di farglielo più volte, di provare, no no no, questo è brutto 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 brutto, è andato in un'altra direzione, vi devo dire la verità, è andato in un'altra direzione, no, provare a fargli fare un altro giro, ma veramente solo per vedere se mi dà qualcosa di diverso, perché questo avevo detto è quello che mi, che mi convinceva di meno dei quattro, di più dei quattro, ma forse in realtà di tutti quelli che sono stati generati, anche se questo diciamo, anche non era, non era male, però poi è andato proprio in un'altra strada qua, abbiamo proprio, proprio perso, ovviamente no, dipende da quello che uno ci deve fare, magari per qualcuno di voi questa roba può bastare, dice Raffa, però io questo posso permettermi di spendere, no niente, 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 direzione, allora, qua possiamo provare, direi di provare, diciamo il, il prompt che abbiamo preso qua, quello là, iniziale, lo diamo a mid journey, wow, cosa ho copiato qua, fatemi togliere un po' di roba, fatemi togliere questo, lo diamo qua sopra, lo facciamo quadrato, modello standard, versione 6.1, personalizzazione off, speed, variety, weirdness allora fatemi abbassare un po' la variety mettiamo una 60-70 e non tocchiamo niente qua non voglio weirdness di nessun tipo diamo l'invio e vediamo cosa ci sta creando voglio fare una prova con questo prompt e poi dopo voglio andarmi a prendere invece anche quest'altro questo nuovo di uno di quelli che forse mi era piaciuto un pochino di più quindi vediamo in create cosa sta facendo adesso in questo momento mi giorni ci mette ovviamente un pochino in più perché ho messo la versione fast nella creazione ecco qua vediamo già l'anteprima di qualcosa ovviamente sul testo ideogram per me al momento è imbattibile adesso mi aspetto appunto che col testo qua si vada veramente no 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 gli amici ovviamente esperti di mi giorni mi diranno raff potevi ottimizzare il prompt in questo modo mi giorni ovviamente è uno di quei tool dove il prompt deve essere scritto veramente come dio comanda devi avere proprio chiaro in mente quello che vuoi vedere no quindi diciamo servono secondo me delle competenze che sono fuori anche le competenze che ho che ho io proviamo a fare invece a dargli questo qua quindi questo un po' più diciamo dettagliato no un pochino più descritto qua non tocchiamo niente e gli diamo di nuovo invio ops eccolo qua e lo vediamo da qua quindi dicevo mentre su questi qua c'hai sempre il fatto che su questi tool qua il tool fa molto lavoro di interpretazione di modifica del prompt no di di diciamo di ci mette una pezza no ci arriva diceva fammi fammi che lo faccia meglio di te mi giorni ovviamente come per le fotografie no se uno ne sa pacchi di quella roba là e può mettere preciso nel tipo di camera il tipo di obiettivo no il tipo di pellicola l'apertura eccetera eccetera devi essere veramente esperto di quello che che scrivi per poterlo utilizzare vabbè poi col testo semplicemente non ce la fa cioè proprio col testo non non ce la fa cioè why you non ce la fa non so com'altro dirlo no questa è proprio fuori fuori strada secondo me la roba migliore l'ha fatta ideogram probabilmente con questa versione qua che non la trovavo male c'era qualcosa di carino qua però poi troppa monnezza troppa roba di contorno eccetera e poi c'era pure questo qua che ho provato a fargli fare non 3d no ma con una versione flat e però poi si è perso un po' per strada diciamo di questi nessuno veramente mi piace nessuno arriva un po' a quello che avevo pensato o a quello che era qua vediamo invece cosa hanno fatto i tre grafici su su fiverr se non la conoscete fiverr è una piattaforma come vi dicevo sulla quale potete trovare freelance che fanno lavori di vari tipo tra l'altro questo è un video in collaborazione con fiverr e se usate il link gaito.link slash fiverr e quando andate su fiverr nella pagina di pagamento di checkout mettete il coupon gaito vi beccate il 10% sul primo sul primo ordine vi lascio il link qua sotto in descrizione poi dopo ve lo ripeto per sicurezza allora io ho scelto tre grafici diciamo volevo fare visto che facevo tre tool volevo provare pure tre grafici e diciamo li ho scelti guardando un pochino quello che hanno fatto ma anche per le fasce di prezzo ovviamente ho detto faccio vedere delle cose magari non tutti quanti si possono permettere di spendere la stessa cosa quindi un grafico una persona 100 dollari la seconda persona 200 dollari la terza persona 300 dollari quindi sono tre fasce non sto dicendo non sto dicendo che ai prezzi equivale diciamo per forza alla qualità però molto spesso diciamo se spendi di più ti aspetti di avere una qualità maggiore non voglio generalizzare però diciamo che spesso è così allora con la prima persona che si chiama Camilo vi lascio il link dei tre profili mi sembra giusto queste sono persone che hanno fatto comunque questo lavoro vi lascio il loro link qui sotto se volete contattarle eccetera eccetera allora diciamo che il requirements è stato proprio identico quindi questo è il brief gli ho scritto proprio questo che avete visto che poi abbiamo usato anche come prompt con la prima persona con Camilo questo è stato un po' il flusso quindi diceva vabbè mi ha ringraziato il tre mi ha mandato i requisiti stavo per dire il prompt il quattro mi ha detto già che aveva fatto qualcosa e queste sono un po' diciamo lo stesso messaggio si vede due volte queste sono un po' le cose che mi aveva proposto ma aveva fatto cinque proposte ve le faccio vedere così magari mi dite pure se c'è qualcosa che vi piace anche da semplice appassionato non per forza solo i grafici gli esperti devono rispondere quindi queste erano un po' le proposte che mi ha fatto Camilo ve le faccio vedere c'era la la prima era quella là è un pochino lenta la connessione non ho capito sui file che sono pesati vabbè sì perché sono dei pdf vabbè ve li faccio vedere da qua comunque diciamo si vede si vede anche dall'anteprima non fa niente zoom così zoom così e vi li faccio vedere da qua quindi diciamo queste erano un po' le cinque proposte che mi aveva fatto per capire quantomeno la direzione nella quale andare e se ci fate caso alcune cose sono state richiamate anche nel nei loghi che abbiamo che abbiamo provato qua io ho detto ciao Camilo la diciamo la quella che preferisco è quella che si chiama 5W quindi era questa qua queste qua non mi convince ad antico questa è un fonte un po' pesante eccetera questa mi piaceva molto l'idea di questa persona avvolta mi dava un po' questa idea del iA360 ho detto guarda però mi sembrano un po' corporate non so perché mi dava la sensazione di corporate forse perché il logo era molto spesso non lo so io ho detto tipo una banca un'assicurazione mi dà un po' questo feeling mi riproponi la versione 5W con una versione un po' più light un po' più leggera un po' più minimal mi ha detto certo nessun problema eccola qua e quindi diciamo questa qua è la versione che mi ha fatto dove sta eccola qui diciamo mi ha fatto anche un'altra questa qua non c'era ma ho fatto pure un'altra dove c'era questo effetto un po' diciamo del cerchio che avvolge quindi questa qui è la versione che è arrivata queste sono delle jpeg dovebbe essere più veloce ad aprirsi questa è la versione che è arrivata un po' più minimal e questa diciamo un'alternativa sempre giocando su questo effetto del 360 quindi che ti circonda un pochino questa qua non mi ha convinto tantissimo questa invece su questa gli ho dato l'ok io ho detto ok perfetto se mi mandi questa qua i file finali te lo approvo diciamo concludiamo la transazione quindi diciamo il 10 mi è stata consegnata quasi è confuso tra l'altro quando me l'ha consegnato mi ha consegnato la versione precedente con i diciamo colloco quello un po' più spesso e io ho detto no guarda ti sei confuso dammi la versione minimal me l'ha ridata quindi diciamo abbiamo iniziato a chiacchierare il 3 me l'ha dato il 10 diciamo in una settimana ho avuto il logo finale che tra le varie proposte diciamo quello che mi piaceva di più era questo qua con la seconda persona invece che si chiama Daniela dove diciamo il costo era il doppio non vi faccio dire i requirements perché era identico quindi ho fatto la stessa identica richiesta quindi diciamo costava il doppio iniziato lo stesso giorno quindi il 3 di settembre mi dice guarda ti ho mandato ti ho mandato delle proposte adesso te le faccio te le faccio vedere quindi la prima proposta era questa qua e qua Daniela già aveva fatto un po' un lavoro diverso mi ha mandato già anche delle colorazioni rispetto a diciamo a queste prime prove qua che erano un po' più piatte mettiamola così come il modo con il quale mi sono stato presentato il modo con il quale mi è stato fatto vedere qua già diciamo questa aiuta un po' a vederli in diversi contesti e così via e poi ha anche già iniziato ad utilizzare dei colori che richiamano IA360 se andate a vedere il sito di IA360 appunto Academy ve lo lascio qui sotto se volete studiare le IA con me con me e con gli altri esperti in Italia anche già farmi delle prove con il viola che usiamo noi oltre al bianco e il nero questa era una proposta questa era una seconda proposta vi faccio vedere pure questa dove c'era un po' questo effetto di questi cerchi no? qua una persona al centro eccetera eccetera qua il font non mi piaceva tantissimo qua io ho detto appunto che il font non mi la seconda non mi piace mi piace la prima mi fa vedere un po' una variante io ho detto qua vorrei vedere anche con il logo sopra diciamo con l'iconcina sopra è più corretto dire no l'iconcina sopra e la scritta sotto qua mi ha detto nessun problema mi ha mandato diciamo anche questa variante dove c'è un po' questa cosa così perché ovviamente ci sono contesti dove lo metti in orizzontale contesti dove ti serve un pochino più quadrato voglio vedere anche l'icona da sola come se la come se la cavava qua gli ho fatto fare questa questa modifica qua gli dico mi piace molto me cioè te ne devo pagare due separate oppure mi puoi mandare diciamo sia quella stretta e lunga che quella diciamo quadrata le ha fatto non ti preoccupare nel prezzo te ne mando entrambi e quindi poi alla fine gli ho approvato l'ordine questo qua nella quale ho avuto diciamo nel quale ho avuto poi tutte le le png trasparenti diciamo tutti i file il file illustrator il pdf il file photoshop eccetera eccetera quindi diciamo quello che io ho approvato alla fine è questa versione qua anche qua mi piaceva molto questa idea del 360 che un po' dava questa idea di circondare la terza persona invece che si chiama olivia85 vi lascio tutti i link qui sotto ma veramente per il piacere di aver collaborato con queste persone stessi requisiti quindi non c'è bisogno che ve li faccia vedere sono proprio identici ma ha detto già qua diciamo un po' di informazioni proprio su come funziona il processo di Fiverr mi ha detto guarda le modifiche mi richiederanno 24-48 ore le modifiche più piccole diciamo 12-48 ore eccetera eccetera e qua arriva la diciamo la proposta dove sta eccolo qua questo qua è un po' il pdf il primo diciamo che mi ha mandato dice guarda ti faccio vedere un po' cosa ho in mente questa è un po' l'idea che ti vorrei che ti vorrei proporre e tra l'altro già nei tre prezzi ho visto il modo con il quale presentavano la proposta già l'ho detto già tra il primo e il secondo si è vista molto la differenza tra il secondo e il terzo quindi tra la seconda e la terza persona secondo me si è vista ancora di più il file ci sta mettendo una vita per aprirsi non ho capito perché solo un mega i82 non so se la mia connessione che è lenta o c'è qualcosa che non va con il file nel caso in cui ci metta tanto non vi preoccupate che taglio e aspettate lo scarico e lo apro eccolo qua facciamo prima qua diciamo mi piace già il lavoro di presentazione che è stato fatto quindi casistiche reali di utilizzo le bag per esempio io che a volte faccio gli eventi con la community le bag le facciamo veramente fatto vedere su una grafica magari questa potrebbe essere una presentazione qualcosa del genere qua il logo da solo quasi un potenziale bigliettino da visita anche qui diversi proposte dove si vedeva già il l'utilizzo del del viola o comunque di alcuni tipi di viola qua un po' di giochi diversi di cromatici questa mi è piaciuta molto come idea però se ci fate case ho sbagliato la scritta perché AI360 invece a me si chiama IA360 e ho detto guarda tutto molto bello però in italiano siccome si chiama intelligenza artificiale molti utilizzano l'acronimo IA la mia accademia si chiama IA360 e quindi mi ha fatto la ho detto perdono mi pensavo fosse fosse un refuso ma mi ha mandato la versione diciamo la versione aggiornata vi faccio vedere pure questa qua della versione aggiornata quindi IA360 quindi identico stesso file però con il con il lavoro vedete qua c'è anche la presentazione dei colori diciamo secondo me c'era già un livello di professione da migliore e poi è utile vedere anche questi contesti d'utilizzo ti aiuto un po' a proiettarlo per dire ma quando lo metterò da qualche parte poi quale sarà l'effetto l'effetto finale qua io ho detto mi piace molto mi puoi fare una variante nella quale magari si percepisce di più l'effetto community cioè qua del logo che poi se vedete è qualcosa sul quale hanno lavorato un po' tutti quanti e anche le I spesso sono andate in quella direzione c'era l'idea del cervello con dentro dei chip quindi l'aspetto umano l'aspetto elettronico passatemi questa semplificazione che si unisce in una sola icona che un po' rappresenta questa cosa al centro c'era il cappello classico da diciamo americano più che classico è classico nei film americani classico cappello da studente che dava un po' l'idea della formazione qua non ero convinto di questa cosa perché ho detto guarda più che la formazione mi piacerebbe passare l'idea di community perché poi A360 è anche soprattutto quello cioè nel senso belli i corsi ovviamente i webinar le interviste i Q&A eccetera eccetera però la gente poi mi dice Raff però la cosa bella è avere una community i commenti le chat la possibilità di parlare con altre persone confrontarsi quindi ho detto vogliamo provare a fare una proposta anche sulla parte diciamo di community mi ha detto certo nessun problema te lo modifico un pochino vi faccio vedere anche la versione diciamo di community come è arrivata e quindi nel logo c'era questa cosa che mi piaceva veramente veramente molta cioè le connessioni tra le persone cioè qua c'erano un po' tutti gli elementi che poi sono finiti insieme e qua c'erano le connessioni tra le persone che ho apprezzato che ho apprezzato tanto vedete anche diciamo in varie varie colorazioni eccetera eccetera quindi diciamo qua alla fine gli ho detto guarda perfetto mi piace un botto diciamo se mi mandi i file poi ti approvo ti approvo tutti i file mi sono arrivati il 17 abbiamo iniziato a dialogare il 3 quindi lo stesso giorno gli altri più o meno ci abbiamo messo una settimana no qua forse addirittura di meno di una settimana qua diciamo dal 3 al 17 che sto su 14 giorni ci abbiamo messo due settimane due settimane però con con un lavoro di qualità migliore infatti alla fine ho scelto il lavoro di olivia non ve lo spoilerà dall'inizio perché se no poi sapevate già dove si andava a finire però alla fine ho scelto il lavoro di olivia ed è questo che adesso piano piano stiamo integrando sul sito nelle grafiche nelle ads eccetera eccetera è quello che secondo me rappresentava di più proprio il concetto che avevo io in mente vi dicevo questo è un video fatto in collaborazione con fiverr se utilizzate il link gaito.link slash fiverr ve lo metto in sovraimpressione anche qua sotto e al momento del pagamento mettete il codice il coupon gaito vi beccate il 10% di sconto sul primo ordine ci trovate freelance che fanno qualsiasi tipo di lavoro ovviamente non solo la parte grafica quindi montaggio video adv scrittura eccetera eccetera c'è veramente un po' un po' di tutto lì sopra riflessione diciamo un po' finale che voglio fare nonostante con le i siamo andati avanti tantissimo e avete visto no della roba per esempio di estrema qualità che ha fatto ideogram ovviamente qua la parte che ho veramente apprezzato è qua diciamo dico quasi una una ovvietà però fatemela dire perché poi la ripeto spesso qui sopra è quella parte di interazione di poter trasmettere a olivia o no o a chi per esso fare di fare un botto risposto un avanti e indietro cosa che magari ci provi in parte con c'è GPT poi se ne va per la sua strada però per dire guarda olivia ci siamo quasi occhio che qua hai sbagliato questa lettera occhio che forse più che la formazione voglio mettere il focus sulla sulla community e olivia ha fatto quel lavoro che io ho ribadito tantissime volte qua sopra quando ho fatto i video a volte mi avete chiesto sempre Raffo ma io sono un copywriter Raffo ma io sono un grafico ma qual è il mio futuro sono un fotografo e dicevo ma qual è il vostro ruolo è quello di battere dei tasti su una tastiera sapere usare un software oppure di avere una visione di sapere unire i puntini di portare un approccio di competenza sul piatto sul piano del ragionamento del lavoro che è quello che è successo con queste tre persone poi ovviamente sto parlando di olivia perché poi è la persona che ho scelto come logo finale già il fatto che nella prima proposta mi sia arrivata questa roba qua e l'abbia fatto di sua iniziativa quindi ti faccio vedere com'è stampato su una maglietta ti faccio vedere com'è su una grafica ti faccio vedere com'è su un bigliettino da visita eccetera eccetera mi aiuta a me clienti dall'altro lato ad avere quella proiezione per dire ecco come sarebbe un suo utilizzo poi reale finale eccetera eccetera e questa roba qua secondo me è il velo valore di parlare con un essere umano ecco perché quella roba vi deve differenziare non può essere semplicemente so usare un software che un'altra persona non sa usare perché finché la competenza rimane solo quella lì le hai diciamo c'è molto vicino avete visto come ci arriva con dei risultati finali che sono di ottima qualità però è tutto il resto che fa la differenza il bot risposta la chiacchierata il trasmettere la visione lei mi chiedeva degli approfondimenti io gli spiegavo alcuni aspetti gli dicevo qual era il valore per me della community eccetera eccetera non solo la segnalazione degli errori fino alla fine ad arrivare a un prodotto un prodotto finale di qualità like e commento strategico gaito.link slash fiver con il coupon gaito se volete utilizzare la promo che fiver ha riservato per la mia community il link è qua sotto in descrizione visto che abbiamo no visto all'opera c'è gpt migiorni ideogram ideogram probabilmente è quello che si è comportato meglio tra i tre se non lo sapete qui sopra c'è un bel tutorial di ideogram vi faccio vedere come utilizzarlo bene ve lo lascio adesso a schermo cliccate il video e andate a vedere pure come potete utilizzare ideogram bene smanettarci un pochino con le nuove fighissime funzionalità che hanno da poco rilasciato vai andate al video